Un'ottima edizione, oltretutto segnata anche dalla nuova entrata relativa al contesto e all'essenza del fair play, quindi siamo lieti e contenti che tutto il territorio provinciale sia stato partecipe di questa manifestazione che ha dato il via alla ventesima edizione ufficialmente, quindi da questo momento siamo in pista per tutto il resto che avverrà poi a partire dalla conferenza stampa fino a luglio. È già stato ufficializzato oggi il primo nome di un premiato che sarà presente la sera del 13 luglio a Castiglione Fiorentino. Sì, è il premio che è realizzato in collaborazione con il Centro Sportivo della Guardia di Finanza, Studio e Sport. È stata nominata Sofia Lugugnani, un'atleta dell'Alga Etrusca di Arezzo che ha degli ottimi risultati a livello nazionale e non ultimi ai campionati nazionali studenteschi, quindi siamo lieti che sia una nostra giovane atleta a ricevere questo premio in occasione della serata insieme ai tanti personaggi che saranno presenti il 13 luglio a Castiglione Fiorentina. È un'emozione indescrivibile perché sinceramente non mi aspettavo di ricevere un premio simile e quindi sono molto soddisfatta di tutti i sacrifici che ho fatto in questi giorni e non pensavo di ricevere questo premio sinceramente, non mi aspettavo neanche di venire a questa premiazione, quindi sono molto soddisfatta. Le sorprese poi non sono finite perché ti aspetta anche uno stage a Castelporziano, in quello che è il Centro Sportivo delle Fiamme Gialle. È un'emozione indescrivibile perché non mi sarei mai aspettata di potermi allenare o poter anche parlare con dei campioni di quel livello e quindi non vedo l'ora di poter andare a questo stage e quindi confrontarmi anche con questi atleti a livello mondiale, sono molto soddisfatta. Grazie.